Salve a tutti ragazze e ragazze, tutti quelli che si sono iscritti nel mio canale in questo ultimo video, anche oggi non farò un videotutoriale e voi pensere, ma questo, questi videotutoriali, ma quando li fanno? Non lo so, perché purtroppo adesso c'è un altro piccolo problema, io ho messo la parte dei soldini per poterli comprare il materiale, per poterli fare il tutorial e invece sono finita nella pittura, ovviamente sono andata a finire per comprare i libri di mia figlia. E quindi mi sono rimaste quattro piacchie, perché sono gratuite e quindi posso farle tranquillamente con voi. Anche se quest'estate ho seguito molto il tutorial, ho potuto fare ben poco perché stavo in campeggio, quindi capite, non è che chiedere le berline pure pure, ma fare il film che mi piacerà tantissimo era un po' improbabile, anche perché si scegliera qui. E quindi ho cominciato a fare qualcosina appena finita l'estate e già qualcosa che l'avevo fatta vedere nell'altro tutorial, avevo provato a incastonare del film, che era una prova, adesso ho rifatto alcune cosine che comunque sono un pochino, cioè sto cercando di addrezzare il filo per vedere, insomma, di poter fare qualcosa di più carino, di poter poi creare. E allora ho cominciato a incastonare alcuni piccoli caposcioli che avevo fatto, che ovviamente non si vedono perché con i soldini dovevo comprare anche una webcam un pochino più adatta a risoluzione, ma come al solito va. Poi ho provato a incastonare il quadrato, fatto sempre con il filmo, so che non si vede il disegno perché come poi ho detto, insomma, il problema è sempre lo stesso. Però l'ho incastonato non con la tecnica di Sara, perché per il momento me la risultava un pochino complicata, per me, e quindi ho provato ad incastonarlo facendo il quadrato normale, invece di chiuderlo quadrato, ho lasciato aperto in centro, cioè la parte centrale, poi ho incastonato facendo le due facce, cioè ho fatto prima la parte davanti, poi ho fatto la parte di dentro, e poi dopo ho cucito tutto intorno. Ovviamente vengono questi angolini molto pronunciati, questi qui, che, beh, non sono carini, ma come primo esperimento non mi è sembrato così, poi brutto, poi tendono forse così, non lo so, comunque così l'ho fatto, e Sara mi perdonerà perché io il suo tutorial non sono riuscito a farlo, e sono sempre la solita embranata, perfetto. Poi non so se vi avevo fatto vedere nell'altro tutorial la stellina, sempre con il filmo, ho sempre incastonato una spirale, poi tutti questi angolini, non so che riuscirò a farci una collana quando comprerò tutto il materiale, come posso farvela vedere che non mi flascia, ecco, forse adesso. C'è dentro la swirla, è fatta sempre con il filmo, poi ho fatto, ho provato a fare anche delle, con la swirla, con le swirla, le perle, con il buchino, che non veramente non si vede perché l'altro ho detto, non si vede il buchino, comunque ho fatto la swirla, poi l'ho bucata, e questa volta, insomma, possiamo inserirla come componente in una collana, ho fatto anche una sfera, sempre con il buchino, che non si vede, ma voi dovete creermi, sempre e solo, esclusivamente, sulla palla, perfetto. E poi, 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 ah, poi ho fatto questa incastonatura, questo però è un rivoli, ho trovato su una rivista questa incastonatura, fatta come una stella, pensavo di non riuscire a farla, non c'è la storia, però è molto carina, molto delicata, perché altro, non tanto perché sia carina o meno, e quindi, ecco, ho provato a fare un po' di queste sfere, questi quadrati, perché non li avevo mai fatti, i quadrati, ho sempre fatto i tondi, perché ero capace di incastonarli, una volta che imparo una cosa, ovviamente, e quindi, adesso ho fatto dei quadrati, che risultano molto scuri, perché, infatti, ho voluto lavorare sulla base nera, dietro, e quindi, anche le lavorazioni, ecco, questa è una cosa che ho scoperto, cioè, che avevo già visto, e Sara aveva già detto, però non pensavo si scurisse così tanto, perché, comunque, io avevo messo dei colori molto chiari, il bianco, il rosso, un villa, invece, mettendolo sulle basi scure, cioè, stendendo poi le fettine delle camions, sullo scuro, ovviamente, anche il disegno, prende veramente un colore molto, molto scuro, perché, invece, mettendolo su dei colori più chiari, ovviamente, tipo questo, il disegno, che, ovviamente, è detto che la web è sempre la solita, quella, che non fa vedere niente, però, il disegno risulta più chiaro, più delineato, insomma, si vede di più, e, e poi, niente, questi qui sono i lavorini, che avevo, che ho iniziato, insomma, a fare in questo periodo, però, ovviamente, non avendo materiale sufficiente, perché non si possono creare tante cose, e quindi, piano piano farò, appena farò, insomma, l'ordine, appena riusciro a vedere una bella web, o una macchietta, infatti, volevo chiedervi, se sotto, ai commenti, mi mettete, il nome di qualche macchinetta fotografica, che funzioni, anche, da fotocamera, da webcam, come la vede, perché alcune di voi le hanno, che ha, cioè, che riesce a far vedere, anche i particolari, perché ovviamente, con risoluzioni, basse, non si vede, come la webcam, però, alcune, non so, se tutte le macchinette, possono funzionare, da webcam, e quindi, datemi qualche consiglio, e poi, avete notato, il look, non ho più capelli, voilà, cambiamento, fine delle spade, fine, di problemi, ovviamente, molto indifferenti, ci facciamo, sempre, una risata sopra, la faccia, di tutte le cose, che ci succedono, che sono negative, e, adesso, vi saluto, perché, insomma, già, vi ho rotto a sufficienza, e vediamoci, al prossimo tutorial, boh, non lo so, un bacio, a sufficienza, a sufficienza, Grazie a tutti